ok allora ragazzi bentornati su the last of us parte 2 siamo precipitati dalla sopra grazie anche forse al senso di vertigine la paura dell'altezza della nostra e b ora dobbiamo scendere e trovare la strada per quello che è il nostro obiettivo cioè medicinale tutto per salvare la vita della sorella dell'amico della sorella sarà della della compagna si aia peggio è passato abbiamo avuto l'altro sera fita quindi dobbiamo vedere un po wifi wifi gratuito per gli ospiti dell'hotel password 121 879 121 879 va bene se devo morire morirò per me va bene infatti perché sei tornato a prenderci scusami vorrei dire non ci dovevi niente io sentivo il bisogno di aiutarti 121 879 c'è qualcosa qua ci servirà per dopo vabbè 121 879 ricordiamocelo niente ok e che cosa c'è a forse un po di materiali non c'è niente a potesse pure qua troviamo un po 121 quindi 12 si apre la password ah brava avete capito come hanno fatto cosa furbetta invece se la password wifi era invece la combinazione della cassaforte che ci ha fatto trovare altri oggettini e ora direi di scendere per le scale perché non penso di utilizzare la scienza manco l'ho finito di dire allora si bene ok va bene che pruita al naso per via della dell'allergia sto dicendo dell'agenzia anziché dell'allergia uno dei tuoi no guarda i vestiti tieni è buio qua già ah brava che funzionano ancora le batterie ecco come funziona vediamo cosa c'è scritto qui se Victor e Rina sono morti averi e meli dispersi io ho ricevuto un bel morso nido era più grande del previsto ho provato a farli saltare in aria ma i dannati i detonatori erano difettosi ci avrei scommesso che l'incompetenza della fedra mi avrebbe ucciso bene ci sarà qualche grossa esplosione più avanti sfrutteremo i loro esplosivi e vabbè dai scendiamo vediamo un pochettino allora cosa cosa c'è qui possiamo trovare dai ok via spieghiamoci colpi bene spore la maschera io non ce l'ho non credete nelle maschere antigas stavamo scappando vediamo che cosa trovo stai qui indietro del tutto se muori resterò bloccato qui non ti preoccupare allora prega per me ok bene vediamo un po' qua che sentiamo qualcosa di utile tutto per lato facciamo attenzione vediamo per il momento nella 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 più totale vediamo qui che cosa c'è ah massimo qua questo è un altro della fedra dei colpi va bene munizioni fanno sempre comodo un altro cassettino spero che lì ci sia qualche altra cosa di utile ah steroidi bene 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 ma quella al massimo direi che dobbiamo passare su questa trave facendo bene attenzione a non cadere così bene ecco resta fermo lì ok dov'è non lo individua ok la c'è l'amica amica amico ancora non ho capito io penso che sia una ragazza si riferisce a lui come un ragazzo ma per me va bene ne facciamo attenzione molta attenzione ok perfetto ok qui che cosa c'è nulla di qua non ci sono porte di qua vediamo un po' chiuso devo essere impazzita direi proprio di si è chiuso oh qua ci sono parecchie morti della fedra eh oh è rotta proprio devi morire non rompere la maschera eh infatti mi ha fatto allumare anche a me pensavo di aver trovato la maschera per il nostro amico barra amica barra quel che sia ah ah bagno 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 qua ci sono gli steroidi si altri steroidi ma non abbia abbastanza per una nuova abilità vero? oh forse si aspettate no si no questa slancio dopo aver gradito mortalmente un nemico per un breve periodo di tempo anche il successivo attacco in mischia sarà un'aggressione le aggressioni sono attacchi in mischia che infliggono gravi danni a nemici storditi o sorpresi bene avevo aumentato il danno da mischia perfetto mi fa piacere è sempre la direi che possiamo andar via abbiamo abbiamo visto che schifo qua esce in un muro ma che è una persona si va va bene un'altra della fedra sta morti tutto questa maschera è sana però eh bene allora dovevamo andare a questo piano e trovare la maschera per la nostra carissima amica no amico il nostro amico bene secondo me è una donna comunque ok possiamo tornare da Lev 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 oh eccolo la non possiamo più tornare da Lev dove sei? oh sono in troppi ho capito ok morti tutti creamolo prima mt kit e poi lo usiamo ok usiamolo bene io non sarei un'altra ok e poi ne creerei un altro un altro ancora dell'esplosivo ah no non possiamo crearlo questo si però ok questo a massimo questo a massimo ok torniamo da live dai che c'è qua e creiamo anche un esplosivo ecco ecco qua no ahhh mamma mia ahhh ahhh ok ok tutti morti è andata speriamo sia finita penso proprio di sia torniamo da lemma forza lem lev lem lev ok 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 eccoci qua ti ho trovato anche la maschera un regalino un regalino bene e ora andiamo giù siamo troppo lenti la fretta è pericolosa ma si non possiamo aiutare tua sorella da morti a posto ok andrà bene ma scendiamo giù ma quindi dobbiamo andare di qua bene beh in effetti ascensore ah c'è la corda bene quello è un idrante hmm tiriamolo giù bene ancora meglio è più resistente no mamma mia vada là i muscoli quanto servono in queste circostanze ah altri colpi di fucile a me ne ero accolto ok scendiamo giù andiamo fa attenzione mi raccomando Lev sta attento andiamo puoi farcela ah già perché soffre di vertigine è vero è vero vai 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 ok e giù hmm proprio pieno pieno di spore bene 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 ok oppa c'è qualcosa qua un altro biglietto leggiamo allora Avery il Black Ray Hotel pullulati infetti probabilmente quelli fuggiti dell'ospedale tui tuoi uomini dovete abbattere i supporti dall'interno usate gli esplosivi in dotazione e dei detonatori a distanza buona fortuna quelli difettosi ok perfetto direi che qua non c'è via non c'è via non c'è via quindi abbiamo ecco la strada sbagliata e allora qua oh si si è proprio di si ok perfetto eh lo sbattiamo pure già per dover accendere guarda tu oh guarda là c'è uno non si può neanche calare a prendere delle munizioni eh adesso ho accorto va preso il fucile ok le munizioni ecco si i demoni vabbè ok di qua pure c'è qualche altra cosa dai dai forza dai dai bene eh di qua beh si sicuro che non si può andare quindi dobbiamo scendere per forza ah con un salto andiamo a ballare in corsa ecco qua lev ok ci sei bene ah ce n'è uno là eh ah 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 sta dall'altro lato quindi boh aspetta che però lo sento non è che di quelli grossi boh vediamo speriamo di no speriamo di non cadere no pure questo dal muro ah ma le tutti dal muro ecco ok va bene non sarà semplice sì non sarà semplice prendiamo questo qui c'è qualcosa domini che mi hai fatto entrare inutilmente qua dentro ah no forse possiamo passare dall'altro lato ok oh anzi oh grande un lanciafiamme mi sa yes lanciafiamme nuova arma perfetto mi piace il lanciafiamme oh ah maledizione non ti puoi dissere un attimo qui ah ah direi che forse è arrivato pure il momento di curarci bene ok vediamo se ne posso creare uno no mi manca la roba il materiale va bene ma non si può aprire nulla o si può passare di qua perfetto quindi dobbiamo tornare indietro di qua sto venendo ok dobbiamo passare di qua ah beh suppongo di si va a scendere qua andiamo di qua aspetta vediamo se ok ok no non l'ho presa bene ok non mi pare di no bene è ora di andare eh attenzione a sta cosa qua vediamo un po' però costruiamo qualche altra cosa va che ci può servire se no poi al momento giusto questo no questo no questo noi facciamo un altro bombetta se si può fare la facciamo colpi esplosivi no abbiamo finito il materiale ok ah di fucile ok alzati qua situazione che ci dobbiamo buttare qua dobbiamo buttare qui poi andiamo di qua esploreremo un attimo qui che si troviamo oh la 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 ok ok è morto oh ok vediamo se qui c'è qualcosa però sono un'altra ah ok armada mischia fa comodo per modificare le armi quindi bene possiamo andare continuiamo la nostra strada lungo la nostra strada però ci serve allora facciamo così va andiamo a lanciar fiamme va oh 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 ah ah vediamo qua pure controlliamo sempre da tutte le parti no di qua no ah dobbiamo saltare vai ok controlliamo che non ci sia nessuno con lo sguardo con lo sguardo a raggi x non c'è niente ah maledetto ah ho fatto spaventare a sto giro ah bene dobbiamo andare da quest'altro lato allora ecco vediamo prima vediamo qua che cosa c'è ok quindi possiamo fare forse no serve l'altro ok dobbiamo scendere qua 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 sul materasso eh proprio sul materasso sono finito qui non c'è niente maledetta allergia che mi prude il naso ah altre munizioni ok bene siamo quasi arrivati ragazzi maledetta allergia ok vai hai mai torturato qualcuno lev possiamo solo uscire da qui ok ok ci siamo quasi dai dai forza oh e qui oh ecco pareva che non era chiusa ah no vediamo un po' oh ecco qua bene ragazzoli questo lo vedremo nel prossimo episodio se vi è piaciuto il video mi raccomando cliccate il mi piace e commentate se volete ci vediamo con il prossimo gameplay ciao a tutti ragazzi e alla prossima siamo quasi arrivati giù ci vediamo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti